Siamo da Essenze di Moda Molto piacere, ben ritrovata Grazie, piacere mio davvero Non è la prima volta che ci vediamo E non è la prima volta che mi dai da indossare delle cose fantastiche Intanto ringraziamo questa direzione per averci ospitato Nella persona della signora Rizzo Ci auguriamo di fare altre manifestazioni di questo tipo Che dire Carmen, fammi tu le domande Allora da voi praticamente si entra con dei desideri E poi si esce con il prodotto realizzato Un esempio, se volessi realizzare qualcosa di particolare Magari, non so, ecco Una giacchettina in un certo modo Con delle idee solo mie Voi riuscite a farlo? Perché tu vieni con le idee chiare Siamo in grado di realizzare quello che appunto Esce dalla tua fantasia, dalla tua creatività E non solo In base alla tua esigenza Alla tua occasione Che possa essere la cerimonia O semplicemente la vacanza sulla neve Se vorrai farti la pelliccia E potrà venire fuori una buona idea Appunto per un cavo esclusivo E raffinato da indossare E goderti diciamo Nel calore appunto Della tua confezione Poi dico tu la stai provando questa Che ne pensi? Fantastica Sinceramente Mantiene un calore incredibile Ti posso descrivere Qua non abbiamo fatto altro Che rivisitare Le linee anni 30 Perché sai La moda è una ruota che gira Quindi non si fa altro Che ripescare E rivisitare In chiave moderna Ovviamente Quello che tu stai indossando Per un risultato appunto Da vivere Allora vi raccomandiamo Andate a trovare Stenze di moda Che si trova in via Siamo sul via San Martino 241 Vi aspettiamo Grazie ragazzi Ciao 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 Ciao